ciao e benvenuti in questo nuovo video con alcuni quiz di chimica partiamo subito il primo quiz ci chiede di determinare la configurazione dell'atomo di cloro e ci mette a disposizione cinque alternative diverse solo una è quella corretta ora provate a rispondere con tutta calma e affermare il video e poi vediamo insieme dopo la soluzione ok la soluzione a questo quesito è la risposta a ovvero la configurazione 1s2 2s2 2p6 3s2 e 3p5 questa corrisponde alla configurazione elettronica dell'atomo del cloro la risposta b c d ed e sono sbagliate perché perché la risposta b corrisponde alla configurazione elettronica dello zolfo la risposta c corrisponde alla configurazione elettronica dell'argon ovvero un gas nobile la configurazione di ed e non esistono ovvero sono sbagliate nel senso che abbiamo un 2s1 parzialmente completo e lo stesso discorso vale per il 2p5 e questo andiamo a vedere dopo ovvero le configurazioni elettroniche vanno in ordine crescenti di riempimento di orbitali a più bassa energia non bisogna mai riempire un orbitale di più alta energia se prima non si sono riempiti gli orbitali più bassa energia ma andiamo a vedere bene il perché innanzitutto la configurazione elettronica descrive il comportamento degli elettroni negli orbitali corrispondenti e questo è molto importante perché in questo disegno viene mostrato appunto l'ordine crescente di energia degli orbitali partendo dalla più bassa energia alla più alta energia infatti abbiamo l'1s il 2s poi il 2p il 3s il 3p il 3d e così via infatti il riempimento degli orbitali si parte sempre dagli orbitali a più bassa energia per poi arrivare a quelle più alta energia ed è per questo che la d e la risposta e sono sbagliate perché bisogna riempire sempre quella più bassa energia un'altra cosa da ricordare è che gli orbitali s possono contenere al massimo due elettroni gli orbitali p al massimo 6 elettroni gli orbitali d al massimo 10 elettroni e gli orbitali f al massimo 14 elettroni tutti gli elettroni devono essere sempre accoppiati con spin opposto quindi tornando alla soluzione del quesito possiamo vedere che il cloro è in posizione 17 ovvero a numero atomico 17 gruppo 7 periodo 3 quindi di conseguenza un metodo poteva essere semplicemente quello di ricordarsi che essendo un analogeno doveva avere appunto solamente cinque elettroni nell'orbitale p quindi di conseguenza 3p5 un altro metodo poteva essere quello magari di ricordarsi la configurazione dei gas nobili come l'argon o il neon e poi in caso dell'argon sottrarre un elettrone sapendo che appunto il cloro è prima dell'argon quindi in questo caso 3p6 meno 1 diventa 3p5 oppure ricordarsi la configurazione del neon la configurazione del neon e aggiungerci 7 elettroni 2 nell'orbitale 3s e 5 nell'orbitale 3p ed ecco che si ritrova la configurazione elettronica del cloro un altro metodo anche se diciamo molto più complicato è quello di ricordarsi il numero atomico dell'elemento in questo caso 17 ed è una verifica che possiamo fare per capire se la risposta che abbiamo dato per vera sia giusta o sbagliata infatti se noi sommiamo la somma degli esponenti ovvero la somma degli elettroni degli orbitali questa somma deve essere uguale a 17 ovvero al numero atomico se corrisponde al numero atomico allora probabilmente la configurazione elettronica è quella giusta bisogna sempre ricordare però che la somma deve essere sempre rispettata in ordine di energia crescente degli orbitali quindi ricapitolando la risposta corretta era la siamo arrivati alla conclusione di questo video in questo esercizio abbiamo visto i concetti principali per risolvere al meglio i quiz sulla configurazione elettronica ti aspetto nel prossimo video con tanti altri quiz di chimica ciao